Dal 27 al 30 novembre 2014 si è svolto presso il Lingotto Fieri di Torino Restruttura, un evento focalizzato sulla riqualificazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio. Ormai giunta la sua 27esima edizione, la Fiera ogni anno offre ai numerosi visitatori una panoramica completa sulle soluzioni ecosostenibili, tecnologie per l'eccellenza energetica, le riduzioni dei consumi e le novità su materiali, attrezzature e tecniche costruttive. Un'occasione per riflettere su come sta cambiando la figura dell'architetto. Acqua Tenga Inginere è una start-up innovativa nata all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino nel 2010. Noi abbiamo realizzato un sistema di illuminazione innovativa, un LED intelligente che siamo in grado di gestire in tutte le sue funzionalità. Quindi il nostro prodotto è emozione perché abbiniamo luce e suoni e musica all'interno per esempio delle piscine o delle spade hanno un'illuminazione dinamica. È informazione perché con il nostro sistema virtual trainer utilizzato da grandi campioni anche nel mondo del nuoto viene utilizzato per dare informazioni durante l'allenamento, una sorta di lepre fantasma. È sicurezza perché si può utilizzare per dare percorsi di emergenza, indicazioni per i punti di uscita o quello che si desidera dare come informazione.